Ciao a tutti, siamo qua a Mantua, purtroppo io non posso ancora correre ma ci stiamo riprendendo molto bene, diciamo che siamo piano piano, stiamo riprendendo perché lo scafoide mi sta facendo un po' brontolare perché fa molta fatica a calcificarsi, per me ancora due settimane di stop, poi si spera di ricominciare ad andare in moto e poi il nostro obiettivo è ritornare in gara ad Arco di Trento. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.